Bella a tutti ragazzi, oggi siamo in una nuova reazione a Nintendo Switch Online funziona male, andiamo a vederla Arricchite la vostra esperienza di gioco Totò, grande, grande Oggi vi presentiamo 5 caratteristiche della vostra iscrizione Gioco con like lag Con il gioco online potete divertirvi insieme Questo è l'errore della console Sfidate i giocatori Continua a crescere Dai Cercate i vostri preferiti e poi tutti online Nintendo Entertainment System Nintendo Switch vi permette anche di gustarvi i classici per NES Dove, quando e dove e quando e dove E dove e quando Poco importa Luigi lo sa bene Non importa quante precauzioni si possano prendere Viene schiacciato da un swamp E se i vostri preziosi dati di salvataggio andassero perduti per qualche motivo Per qualche motivo Poco importa Anche se la vostra console si rompe Poco importa Sì App per smartphone Inutile se non hai splatoon Nintendo Switch online Si collega anche un altro smartphone Grazie a questa potente Ma cos'è sto telefono? Che pubblico Germano Ti odio Ti odiamo Unicare via chat vocale nei giochi compatibili E laga E possono partecipare anche gli spettatori Non me ne frega un cazzo Non te ne frega Non me ne frega un cazzo I membri riceveranno anche delle offerte esclusive 59 euro e 99 a 59 euro e 98 Che cattivi Quando e con chi volete Di cosa si tratta Poco importa Arricchite la vostra esperienza di gioco Nintendo Switch online Nintendo Switch online Trovate il piano più adatto a voi Se la vostra famiglia ha più di un account Nintendo Poco importa Ah è crashato dai Ok è finito Un po' video corto Ma ci vediamo alla prossima